Il clima elettorale inizia a farsi sentire da C. Sant'Antonio, muri invasi da faccioni che campeggiano sorridenti e si propongono come sindaci e consiglieri comunali, un vero e proprio esercito di candidati. Quasi 300 gli aspiranti che sono in competizione come in un vero e proprio concorso pubblico. 20 posti disponibili in tutto, la città del Casalotto si conferma come ogni 5 anni, il paese con la più alta densità di candidati per ogni singolo abitante. Infatti ogni 40 persone residenti e votanti c'è un candidato. 14 liste e 6 sindaci, numeri che fanno invidia anche al capologo catanese dove le liste sono 13 e i sindaci 6. Il 9 e 10 giugno si andrà al voto e i vari candidati stanno presentando le loro candidature con amici e parenti per lo più in luoghi chiusi. Le piazze non sono predilette, d'altronde con tutta questa frammentazione si rischia la figuraccia. Grazie a tutti.